Sarà l'edizione numero 17, quella che prenderà il via mercoledì 5 luglio per poi proseguire settimanalmente fino al 30 agosto. Ad annunciarla Claudio Giorni, presidente del centro commerciale naturale Le Vie di Anghiari. C'è questo nostro tentativo di iniziare un po' prima di mercoledì Anghiari per permettere un po' a tutte le fasce di età di abbracciare questa nostra manifestazione. e organizzeremo delle manifestazioni per bambini anche un po' prima e degli aperitivi a tema, delle scene a tema nei ristoranti che permetteranno alle persone di arrivare un po' prima in paese. L'evento è organizzato in collaborazione con Confesercenti di Arezzo, come ha ricordato Valeria Alvisi, direttore di Confesercenti. Dicevamo prima che è veramente un unicum perché quello del centro commerciale naturale di Anghiari è un lavoro che viene svolto durante tutto l'anno in particolare nel periodo estivo si concentrano il maggior numero di iniziative con ben nove edizioni dei mercoledì per cui abbracciano tutta l'estate e è veramente una situazione veramente unica per cui come Confesercenti ci fa enormemente piacere collaborare all'organizzazione di queste iniziative. I mercoledì di Anghiari credo siano una bellissima non solo vetrina per il paese emotivo di orgoglio ma anche attrattività turistica importanti in una valle come la Valtiberina. I mercoledì di Anghiari da 17 anni valorizzano uno dei luoghi più belli della Valtiberina a Retina, ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi. Grazie.